DFS DFS nasce all'inizio degli anni Sessanta, è una società americana che ha i suoi headquarters a Hong Kong ed è specializzata in travel retail. DFS sta per Duty Free Shoppers, tant'è che la specialità del gruppo nasce gestendo duty free all'interno degli aeroporti. Attualmente gestisce circa 460 di questi negozi, ma attorno agli anni Settanta ha varato anche un altro progetto che l'ha portato ad avere una ventina di mall di lusso all'interno delle città nei centri storici, prevalentemente negli Stati Uniti, nel Far East, nel Middle East. Quella di Venezia, con il tifondaco dei tedeschi, che fa parte appunto di questi mall di lusso, è la prima apertura a livello europeo. La prossima sarà la Samaritena a Parigi nel 2020. Nel 1996 il gruppo LVMH acquisisce la maggioranza di DFS. Rem Kolas ha restaurato il fondaco dei tedeschi, riportandolo di fatto ai suoi fasti. Oggi è uno dei palazzi con maggiore attrattività sicuramente all'interno di Venezia ed è uno dei luoghi più visitati, non solo da persone che vogliono venire a fare acquisti all'interno del negozio, ma anche da visitatori che vogliono vederne la meraviglia, sia come palazzo storico, che il lavoro proprio che è stato fatto da Rem Kolas con il suo restauro. Tifondaco dei tedeschi apre i battenti il primo ottobre del 2016, quindi oggi ha più o meno due anni e mezzo di vita. Ha 7000 metri quadri di superficie che sono dedicati in parte al commercio, diciamo, e in parte agli eventi culturali come le nostre mostre di arte contemporanea. Tifondaco dei tedeschi attrae moltissimo i turisti che vengono a Venezia. Entrano all'interno del fondaco più o meno, abbiamo calcolato in questi due primi anni di vita, 3 milioni di persone all'anno. Sono tantissime, una media più o meno di 8000 persone al giorno, poi chiaramente con dei picchi in alta stagione e dei picchi più in basso invece nei mesi in cui Venezia è più tranquilla. La sostenibilità è un valore importantissimo per il gruppo LVMH, tant'è che ha dei manager dedicati proprio a questo e che seguono tutte le varie meson per garantire che tutte le meson siano allineate attorno a questi valori. All'interno del fondaco dei tedeschi questo si sostanzia soprattutto nella scelta dei materiali che sono stati utilizzati per la costruzione e naturalmente degli impianti che vengono utilizzati per mantenere all'interno dell'ambiente una vivibilità gradevole. Per garantire il comfort all'interno di questo edificio era necessario un imponente utilizzo di tecnologia a livello impiantistico, la quale però doveva essere invisibile esternamente. All'interno del fondo con i tedeschi sono state inserite diverse tipologie di impianto, partendo dal sistema radiante per le aree comune e comunque anche per il retail, passando per il ventil convettore, quindi una tipologia di climatizzazione più dinamica, arrivando anche all'espansione diretta. La scelta di utilizzare polivalenti in questo contesto è stata giustificata dal fatto che vi è la necessità di fluidi di riscaldamento contemporanea alla necessità di fluidi refrigerati. I primi serviranno per la produzione di acqua calda sanitaria d'estate e per il posto di riscaldamento, assieme alla necessità appunto di refrigerare e quindi raffreddare l'edificio. L'acqua refrigerata va ad alimentare sia i pannelli radianti, sia i ventil convettori che abbiamo citato prima. Unitamente alle polivalenti che hanno come sorgente la geotermia e quindi le sonde geotermiche, abbiamo utilizzato anche una pompa di calore aria-acqua, quindi con sorgente aria, reversibile, in grado di fornire acqua di riscaldamento nella stagione invernale e acqua raffreddata nella stagione estiva. Quest'ultima per gestire i picchi di richiesta nelle parti estreme stagionali. A servizio del Fondo Co dei Tedeschi sono state installate 45 sonde geotermiche di profondità circa 100 metri e sono collocate al di sotto delle fondamenta e al di sotto della vasca impermeabilizzata che va a difendere il fondaco dalle acque alte. L'utilizzo delle sonde geotermiche in questo contesto è stato dettato dall'esigenza di ridurre l'impatto acustico verso l'esterno, aumentare l'efficienza degli impianti, ridurre l'ingombro degli impianti stessi all'interno della volumetria del fondaco. Oggi sempre più il retail ovviamente si trova a fare i conti con la concorrenza dell'online. Troviamo tutto quello che vogliamo online comodamente seduti sul divano di casa nostra. Dunque per quale ragione andare in un department store come il nostro? Ci vai per l'esperienza che puoi fare e l'esperienza è fatta ovviamente di tanti piccoli aspetti che includono anche il benessere delle persone. Per noi è fondamentale che l'esperienza che le persone vivano sia perfetta sotto tutti i punti di vista incluse quella del clima che vivono al nostro interno. Grazie a tutti.